Presidente, autorità, gentili ospiti, sono rammaricato di non essere lì con voi oggi, ma il cambio di orari del Presidente della Repubblica Mattarella all'Assemblea di Asso Lombarda non mi permette di assentarmi prima della conclusione della stessa. Voglio comunque esprimervi la mia vicinanza in un giorno di festa per il vostro territorio e fare i miei più sentiti auguri per i 70 anni di Confindustria Cannavese. Oggi, insieme al Presidente Gea, avrei avuto modo di illustrarvi le priorità per le imprese e le principali azioni nelle quali è impegnata Confindustria. L'attuale quadro economico finalmente ci induce a un cauto ottimismo, che ha però bisogno di essere consolidato. Un contributo importante potrà sicuramente venire dal disegno di legge di stabilità, che può essere valutato positivamente, poiché contiene diversi interventi a favore delle imprese, in linea con le principali proposte presentate da Confindustria. È una manovra equilibrata, attenta sia alle esigenze del mondo produttivo, inteso in senso ampio, sia al mondo del lavoro e del sociale. Sul fronte del costo del lavoro, il Governo ha dato continuità all'azione già intrapresa l'anno scorso anno con la riforma del mercato del lavoro, l'eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP e gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, prorogando quest'ultime anche per le assunzioni che saranno effettuate nel 2016, e questo è un intervento positivo. Altrettanto positive sono le misure di detassazione del salario di produttività e quelle che faciliteranno i piani di welfare aziendali, molto richieste dal sistema. Entrambe sono positive e vanno nella direzione di incentivare, in modo strutturale e non sperimentale, la contrattazione di secondo livello e sostenere i lavori con attente politiche di conciliazione, lavoro e famiglia, migliorandone il loro potere di acquisto. Su questo quadro sono stati innestati anche importanti misure per il rilancio degli investimenti privati, attraverso i superammortamenti al 140%, i macchinari imbullonati che finalmente non saranno più inclusi nella rendita catastale e non pagheranno più IMU e TASI, la proroga dei bonus per le ristrutturazioni edilizie e per l'efficienza energetica. Sono tutti interventi che miglioreranno la competitività delle imprese italiane, che Confindustria aveva sollecitato da tempo. In questo ambito delude il mancato rafforzamento del credito di imposta di ricerca e sviluppo e ci auguriamo che le aperture manifestate dal Ministro Padoan nell'intervista rilasciata ieri al Sole 24 Ore possono presto essere colmate. Siccome per investire occorrono mezzi finanziari, abbiamo anche apprezzato all'intervento che come sistema ed io personalmente chiedevamo da anni di poter recuperare celermente l'IVA dei crediti non riscossi a partire dall'avvio della procedura, senza attenderne l'infrontuosa conclusione. Accanto ad interventi orientati alla crescita, occorre però proseguire il percorso di riforme strutturali per modernizzare il Paese e creare un contesto a favore della competitività delle imprese. La pubblica amministrazione rappresenta ancora un freno più che un fattore di sviluppo. L'Italia è sistematicamente in posizioni arretrate nelle classifiche internazionali sul contesto amministrativo in cui operano le imprese. Questo riduce gli investimenti, non solo dall'estero, e la capacità del Paese di crescere. Sono convinto che liberare l'Italia dal piombo della burocrazia rappresenti la via maestra per riportare il Paese su un sentiero di sviluppo concreto. E per questo motivo apprezziamo la legge Madia, recentemente approvata dal Parlamento, che ha il merito di costruire un programma organico di riforma che incide sia sui profili dell'organizzazione della pubblica amministrazione sia su quelli dei procedimenti amministrativi. In particolare, i centri di interlocuzione vengono razionalizzati, le conferenze di servizi rese più fluide, le incertezze ridotte con il silenzio assenso e con i limiti temporali stringenti per l'autototela. Il risultato dovrebbe essere un'amministrazione pubblica più rapida e prevedibile nelle decisioni, ma anche più snella, grazie al taglio delle società partecipate e alla razionalizzazione degli uffici sul territorio. L'auspicio è che il Governo porti a compimento questa riforma, con l'attuazione delle deleghe, restituendo finalmente alle imprese un'amministrazione a servizio della crescita e della competitività del Paese, insomma un Paese normale. Le sfide che ci attendono sono ancora tante, ma oggi è un giorno di festa e quindi i miei migliori auguri a Confindustria Canadese e una buona Assemblea a tutti voi. E buon lavoro a tutti voi.